Sono da poco passate le due di notte di sabato 19 maggio quando in un locale della Movida turinese accade dell'incredibile. All'improvviso sulla vodkaeria di Corso San Maurizio 65, dietro Piazza Vittorio, si abbattono una ventina di ragazzi incappucciati e con indosso dei passamontagna, che iniziano una vera e propria guerriglia armata a colpi di mazze da baseball, spranghe e pistola d'aria compressa. A quell'ora il locale era ancora frequentato da una quarantina di persone che stavano sorseggiando gli ultimi drink della serata all'interno e all'esterno del Deor. È un raid in piena regola, gli assalitori usano le armi contro le vetrine del locale, spaccando il gazebo su Corso San Maurizio e lanciando le sedie per strada. Scatta il panico e il fuggi-fuggi generale, i ragazzi scappano, cercano di ripararsi nell'androne del palazzo di fianco, persino nelle cantine. La banda estrae anche alcuni fumogeni che incendiano un'Alfa GT parcheggiata accanto alla vodkaeria e di proprietà della madre di uno dei soci, Massimiliano Panero. Il fumo si leva per tutto l'isolato finché non intervengono i vigili del fuoco seguiti dagli agenti della Digos e del commissariato d'ora Vanchiglia, che arrivano quando ormai la folla si è dispersa. Dieci minuti di violenza che i proprietari non sanno spiegarsi. Ferruccio Borio, socio di Panero, crede che il suo locale si sia trovato in mezzo a una rissa fra bande con un conto in sospeso. Rimane da chiarire il perché di un episodio che, secondo il capo del commissariato, è da considerarsi gravissimo. La vodkaeria ha da poco festeggiato un anno di vita ed è frequentata soprattutto da giovani universitari. Grazie a tutti.